Cadere è la prima cosa che impariamo La seconda è rialzarci E lo facciamo perché c'è qualcuno che crede in noi Qualcuno pronto a tenderci la mano Da rendere fiero Qualcuno per cui ricominciare a combattere Come le nostre donne, i nostri uomini E tutti coloro che sceglieranno noi per costruire il futuro Monte dei Paschi di Siena Più forza alle persone